Comunque adesso invece è lunedì, lo sapete che a lunedì noi si parla di lavoro e lo facciamo sempre con Filippo Poletti che ci augura a tutti quanti un buon lavoro e quindi a te Filippo. Buon lavoro a tutti. La prima parola della settimana è passione. Quando si fa una cosa con passione tutto diventa più semplice. Bella intervista di Francesca Nonino, la 33enne influencer della grappa che all'interno dell'azienda di famiglia, storica azienda di famiglia, si occupa appunto di comunicazione. Passione dunque, benvenga la passione. La seconda parola chiave della settimana è felicità. Secondo uno studio condotto dalla Oxford University e pubblicato sulla Harvard Business Review, La felicità sul posto di lavoro porta a un aumento della produttività pari al 13% e lo sappiamo bene, la felicità sul posto di lavoro è uno dei motivi che ci fanno restare in un'azienda. Dunque benvenga la felicità sul lavoro. La terza e ultima parola chiave della settimana è felicizia. È una parola nata dall'unione di felicità e di amicizia e che si riconnette alla parola che abbiamo appena discusso. È il tema del prossimo TEDx Legnano in programma sabato 13 aprile a Legnano appunto. Anch'io parteciperò a questo TEDx per parlare di che cosa? Del mezzo pieno, ossia come sia possibile affrontare la vita vedendo il bicchiere sempre mezzo pieno. Dunque buona felicizia a tutti!